Inizia una nuova avventura, una nuova campagna elettorale, con serietà e impegno rimettiamoci al servizio della nostra comunità, perché l'autonomia si difende con azioni concrete. Penso al settore che ho avuto l'onore di gestire in questi anni, la scuola. Grazie ad una norma di attuazione approvata in tempi record, siamo l'unica regione italiana ad aver derogato l'approvazione della buona scuola. Una legge che avrebbe completamente stravolto il nostro sistema di istruzione, sul nostro bel territorio così caratteristico. Ecco, quindi i prossimi anni cerchiamo di combattere quello che è il vento dell'antipolitica, fomentato da slogan politica urlata con la buona politica. Quella è l'unica strada percorribile per riavvicinare i giovani e i giovanissimi che hanno voglia di esserci, di partecipare, di dire la loro, per riuscire anche a far riscoprire quelli che sono i nostri valori, per fare, ma fare bene.